Io vorrei dirvi grazie perché avete dato con il protocollo di Milano l'occasione a ciascuno di noi di riflettere sul fatto che l'Expo è una cosa straordinariamente seria, ma l'Expo oggi è soprattutto un'opportunità per parlare di questi temi in modo non banale, non ideologico, per dire che questi temi sono fondamentali nella discussione del mondo. Ci deve essere la consapevolezza che quando c'è un'opportunità come quella dell'Expo a Milano per poter raccontare una certa idea di sviluppo e di futuro, lì l'Italia deve starci, l'Italia deve essere il protagonista ed è con questo spirito che il governo italiano, ringraziando la Fondazione Barilla, crede, scommette e punta sul protocollo di Milano naturalmente a ciascuno di noi il compito di fare un pezzo di strada adesso e lasciatemelo dire anche la mia personale gratitudine alla lavoratrice e lavoratore di Barilla, alla Fondazione Barilla perché da qui, da Parma, oggi arriva un messaggio che volto è la vostra città e che volto è il nostro paese.